La sezione di eboli della D.P.A. Onlus è superimpegnata nella lotta al randaggismo e per i diritti degli animali. Con queste giornate di caldo estivo, scrive Catarina Sorvillo, referente D.P.A. Onlus, invitiamo a posizionare vaschette d'acqua fresca contenenti una bottiglia di acqua ghiacciata forata. In tal modo permetteremo agli animali di avere acqua fresca per più tempo, questo soprattutto nelle zone periferiche. Tra le tante iniziative di questo anno, oltre alle conosciute giornate del CIP Day, prosegue, abbiamo ottenuto una promessa dal sindaco Massimo Cariello in merito allo spartello animali che presto entrerà realmente nel vivo e soprattutto grazie alla sinergia e disponibilità dimostrata dall'assessore Emilio Masale e consigliere Giuseppe Pegari siamo certi di poter collaborare in piena sinergia anche su altri fronti. Grazie come sempre ai referenti nazionali Paolo Bernini e Alfredo Riccio che mi sopportano in questo cammino. Infine la Sorvillo annuncia. Non per ultimo ringrazio in qualità di delegato di Piano Lusseboli l'invito arrivatoci dalla dottoressa Rosa Buonocore ad una sorta di meeting del volontariato in occasione di uno degli eventi più importanti, il Giffoni Film Festival 2018. Vi aspettiamo numerosi a questo incantevole evento sabato 21 luglio dalle ore 17, dove non mancheranno il divertimento e tanta informazione. Grazie a tutti.